Dottoressa Fianchi, la porpora trombotica trombocitopenica, come si manifesta? Quali sono i sintomi a cui prestare attenzione? In qual è l'età in cui normalmente i pazienti si accorgono di averla? Allora, la porpora trombotica trombocitopenica intanto è una patologia rara, ma rappresenta per noi ematologi un'emergenza ematologica. I sintomi possono essere variabili, sfumati, fondamentalmente è sempre presente una riduzione della conta piastrinica e il paziente può avere delle manifestazioni neurologiche, quindi a volte il paziente si va da una cefalea sfumata ad un paziente che può arrivare anche in coma, ci può essere un'insufficienza renale e in alcuni casi ci può essere anche la febbre associata ad un'anemia perché è proprio caratteristica della porpora trombotica trombocitopenica, l'associazione delle piastrinopenia è questa anemia legata a una distruzione dei globuli rossi meccanica. Esiste una forma congenita che è più frequente in età pediatrica, che si manifesta e quindi si diagnostica in età pediatrica, mentre nella forma adulta il più del 95% dei casi sono forme acquisite per anticorpi che si possono manifestare. Le giovani donne sono maggiormente colpite rispetto agli uomini. Santa dottoressa, quanti pazienti ci sono in Italia in questo momento e tutti sono consapevoli della loro patologia o c'è ancora uno scuro tra chi ce l'ha? Allora il paziente al momento da una stima sono circa 270-280 pazienti con nuova diagnosi di porpora trombotica trombocitopenica in Italia. In genere il paziente che ha una diagnosi di porpora trombotica trombocitopenica poi impara a conoscerla e impara anche a riconoscere quelli che sono i sintomi. Questi pazienti sono dei pazienti che vanno chiaramente tenuti sotto controllo, in follow up, quindi hanno un centro di riferimento e sanno riconoscere eventuali manifestazioni. Quindi i pazienti sono molto consapevoli della loro diagnosi, una volta superata la fase acuta, che è quella più drammatica chiaramente. Sento dottoressa, qual è la percentuale di mortalità e quali sono le cure che in questo momento si consigliano ai pazienti che hanno questo tipo di patologia? Allora diciamo che nonostante tutti i progressi fatti, fino a qualche anno fa la mortalità rimaneva ancora abbastanza alta, intorno al 15-20%. Negli ultimi anni, in particolare negli ultimi anni e mezzo, è stato approvato un nuovo farmaco per il trattamento che ha decisamente migliorato la prognosi di questi pazienti perché è un farmaco che va ad agire su quella che è la situazione che crea il danno d'organo, riducendo la mortalità diciamo almeno del 10%. Chiaramente è sempre una mortalità molto alta considerando una patologia non oncologica, però io sono convinta che con i nuovi, imparando a conoscere meglio la patologia, la cosa importante è una diagnosi precoce. La cosa più importante da sensibilizzare i vari centri è diagnosticare la patologia nell'immediato. È dimostrato che iniziare un trattamento oltre le 24 ore dall'insorgenza dei sintomi impatta in maniera significativa sulla mortalità. Quindi la cosa principale è conoscere per iniziare il trattamento più adeguato nella maniera più efficace e pronta possibile. Senta dottoressa, in ultimo, cosa si può fare per avvantaggiare una diagnosi precoce? Quindi magari informare meglio i medici di famiglia, fare un lavoro di conoscenza maggiore, cosa si può fare effettivamente? Certamente l'educazione delle strutture sanitarie dei medici di famiglia è importantissima. Così come è importante sensibilizzare quindi anche i medici di pronto soccorso perché spesso questi pazienti chiaramente il primo approccio è il medico di terapia, il medico di medicina d'urgenza. La cosa però ancora più importante, oltre al sospetto clinico che deve ovviamente nascere, è rendere fruibile e disponibile un test che fa dalla conferma diagnostica per la porpora trombotica trombocitopenica che è il dosaggio dell'attività di ADAMS13 che purtroppo ancora oggi in Italia ha pochissimi centri in cui viene sviluppato. È calcolato che per esempio in una regione come Lazio c'è un unico centro, quello del Polignico Gemelli, dove il test viene effettuato. Quindi chiaramente questo svantaggia i centri che devono aspettare l'eventuale conferma diagnostica. Il sospetto è clinico, si fanno i dosaggi e gli esami basilari per prevedere, però poi la conferma deve essere fatta con il dosaggio di questa attività che risulta sempre ridotta nei pazienti con porpora trombotica trombocitopenica. Quindi sicuramente educazione e facilitare l'esecuzione di questo test diagnostico che alla fine è semplice però è salvavita per il paziente. Grazie 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 Grazie